Questo metodo l'ho creato io nel corso degli anni perché io mi sono sempre occupato di biofisica applicata quindi chiaramente tutto questo è il frutto diciamo di 35 anni di studio continuato sulla terapia del dolore come sulla medicina rigenerativa fisica è chiaro che una qualsiasi dolore di tipo nocicettivo per esempio prevede che ci sia una lesione di tipo muscolare tendinea eccetera quindi non si può disaccoppiare la parte diciamo di terapia del dolore come terapia analgesica alla terapia dell'infiammazione alla terapia dell'edema e la terapia del dolore nel suo insieme diciamo quindi alla riparazione dei tessuti chiaro che naturalmente contemporaneamente si tratta anche l'aspetto funzionale che è l'altra parte determinante